Oggi il ruolo dei medici di base è sempre più al centro della vita quotidiana familiare. Sono veri punti di riferimento e di sostegno per i pazienti. La loro funzione negli anni non è cambiata, anzi. Il ruolo del medico come tale non è cambiato, è cambiata la società. Noi siamo passati a una società in cui la vita media era 50 anni a una società in cui la vita media 82 anni. Questo logicamente comporta un cambiamento anche di approccio ai pazienti, che una volta erano pazienti giovani con una patologia abbastanza ben definita e stiamo andando verso quella che è la cronicità e che è quello che spaventa i nostri amministratori perché la cronicità è un qualche cosa che metterà in crisi tutti i servizi sanitari nazionali. Un giovane medico che è alle prime esperienze che cosa consiglia? Di fare la più bella professione del mondo, di farla volentieri, di scegliere quello che gli piace perché lo dovrà fare per tutta la vita.